Non te ne andrai mai! Mai! Sono stata una bravissima figlia! Quando sono morti, dovevamo diventare una famiglia! Ma sono tutti ossessionati con quella stupida rossa! Dai, qui! Se tu non fossi nada, sarebbe stato tutto perfetto! Vai via! Giusta! Io ero speciale! Sei inutile! Non vali niente! Un mostro senza amici! Non vali niente! No! Non capisco perché sono così inutile! Per questo nessuno mi ama! Che succede? Vai via! Questa è tutta colpa tua! E non ti farò mai avere ciò che vuoi! Rosa, attenta! Non arrenderti, Rosa! Trova il cristallo! Ma non ti farò mai avere ciò che vuoi! Sei qui! Rosa, attenta! Lui... Mi ha salvata... Ma non ce l'ha fatta... Quella voce... È di mio padre... Quindi Michael è... Mio padre... Non arrenderti, Rose! Trova il cristallo! Grazie a lui... Posso continuare... Devo trovare il cristallo!